Giovanni Achenza, nato a Oesieri, in provincia di Sassari, 31 luglio del 1971, è un atleta paratriolton che, a seguito di un incidente sul lavoro all'età di 32 anni, ha riportato una grave lesione midollare. Grazie a un ortopedico scopre una cosa che gli cambierà la vita, segnando la svuota decisiva, l'handi-bike. Per Giovanni Achenza è un nuovo inizio e inizia a usare la sua bicicletta sempre più spesso, occupando le sue giornate con una nuova passione. E così, nel 2007, inizia la sua nuova vita da sportivo. Dopo aver ottenuto e detenuto il titolo di campione italiano di handi-bike da 2009 al 2015, nel 2013 l'atleta Sado decide di mettersi alla prova in altre discipline e arriva sul gradino più alto del podio, in occasione del primo campionato italiano di paratriolton. Nel panorama del paratriolton, le soddisfazioni sportive continuano per questo atleta, con la A maiuscola. E la vittoria più grande è la qualificazione per le Paralimpiadi di Rio 2016.